Non c'è un accordo segreto nel patto del Nazareno? Oggi Renzi lo ha assicurato nelle colonne di Repubblica, è così? Non c'è nessun salva Berlusconi, nessuna legge ad persona, nessun modo per bypassare la legge Severino e poter far candidare Silvio Berlusconi nelle prossime elezioni? Con una battuta dico che se è segreto è chiaro che non lo conosco, ma lo si vede nei fatti che non c'è perché è stato proprio il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, da poco all'epoca segretario, che ha dato la spinta decisiva per la decadenza di Berlusconi. Per cui direi che su questo Renzi non ha alcuna, cioè vuol dire, non abbiamo nessun debito di riconoscenza verso Renzi sotto questo aspetto, semmai abbiamo un grosso credito democratico. Ma sull'Italicum Forza Italia potrà porre qualche veto? Beh, se è un accordo fatto in due, evidentemente se non siamo d'accordo l'accordo non c'è più. Invece sulla manovra economica, anche questa secondo Renzi non ci sarà in autunno, voi invece sui temi economici siete su tutt'altro fronte? Noi sui temi economici siamo in netta contrapposizione alla politica che sta facendo il governo Renzi. Che sarà secondo lei questa manovra correttiva di 20 miliardi? Renzi continua a dire che non ci sarà, però dovrebbe anche completare le frasi, detto così è un semplice slogan. Lo slogan può andare bene per il titolino, per il titolo lecchino, qualche organo di informazione di regime, ma i mercati sono un tantino più esigenti che non qualche zerbino mediatico. E la vera stampella di questo governo è Forza Italia o col nuovo centrodestra? Sono due cose diverse. Intanto il fatto che Forza Italia appoggi la riforma significa che avevamo ragione noi, considerava carnefici gli interlocutori del Partito Democratico. Adesso mi sembra che stia flertando più di quanto lo faccio, più di quanto siamo disponibili a farlo noi, che ogni giorno poniamo piuttosto problemi di contenuto dell'azione di governo, di contenuto liberale nell'azione di governo. Salva Mediaset, la possibilità di ricandidare Berlusconi, come mai Berlusconi ha cambiato strategia? Onestamente non credo e comunque non voglio nemmeno pensare che ci possano essere ricatti. È importante che sia stato ribadito che per noi leggi a De Personam non ci sono. È un fatto positivo perché chi ha fatto le leggi a De Personam non siamo noi, noi ci siamo opposti e abbiamo cercato di contrastarle. E questo non può esserci, quindi uno scambio come questo non starebbe né in cielo né in terra. Citando un'altra intervista, Romano Prodi ha detto che le riforme col Caimano non le avrei mai fatte. Io su questo aspetto non sono d'accordo perché sulle riforme costituzionali bisogna cercare di coinvolgere. Nessuno ha diritto di veto ma chi è maggioranza deve cercare di coinvolgere. Se Italia ha il diritto di veto sull'Italicum, ci sarà questo incontro tra Berlusconi e Renzi questa settimana? Per me no. Però per Renzi? Non lo so, bisogna lo chiedere a lui. Per me diritto di veto non ce l'ha nessuno. No, noi non lo crediamo. Non lo crediamo perché altrimenti non si spiegherebbe la sua ostinazione a proseguire le riforme istituzionali e costituzionali proprio con il condannato Berlusconi, se non ci fossero delle altre patti da onorare. Per quanto riguarda la questione economica, io vi dico, nella legge di stabilità che abbiamo approvato a dicembre dell'anno scorso c'è un comma in cui si dice che se non fosse stata fatta la spending ci sarebbe stato un aumento di tasse e di accise e di minori agevolazioni fiscali per 20 miliardi, per cui la manovra già c'è. Secondo lei Renzi farà la fine di Monti? Prima lodato e poi abbandonato quando la situazione peggiorerà? E Berlusconi lo scaricherà prima o poi per il suo vantaggio? Berlusconi lo scaricherà per questioni elettorali perché tutte le manovre che verranno da qui in poi, che aumenteranno le tasse, lo vedranno alzare le mani e dire no io non lo voglio fare quando anche Berlusconi ha sempre e solo alzato le tasse negli ultimi vent'anni.